Berlusconi Berlusconi è un criminale, ereo di circonvenzione di incapaci. Approfittando della situazione di monopolio che ha sui mezzi di informazione, circuisce tutta una massa di allocchi. Fateci caso, chi ha votato Berlusconi in genere o sono idioti facilmente circuibili, oppure sono gente disonesta che ruba e vede in Berlusconi un papà spirituale, una sorta di furfante che l'ha fatta Franca e chi come lui ci si immedesima. La circonvenzione di incapaci in Italia è un reato, i voti ottenuti da Berlusconi sono ottenuti approfittando degli incendi, questo è un crimine. Inoltre secondo la legislazione italiana, Berlusconi non è elegibile in quanto concessionario di un servizio pubblico e per giunta un criminale che utilizza una situazione di monopolio per rincognere la gente. Il piano, la sicurezza di ciò che fa il piano, la tranquillità e la revedizione. Tocca vacca!